In una postura salutare, tutte le parti del corpo sono allineate tra loro, sulla base del supporto. Così abbiamo la testa, le spalle, il tronco, il bacino e le gambe. Ma, con una postura scorretta, queste parti non sono allineate e iniziamo a compensare a causa della nostra postura scorretta. Mentre stiamo comunque in piedi, siamo inerentemente instabili e non appena si presenta un fattore esterno che si riflette sul corpo, che può essere un aumento dello stress, una caduta o qualcosa che incide sul nostro equilibrio, abbiamo subito dei problemi. Avete visto un estratto dal videocorso iniziale Una postura sana per un sano movimento? Troverete approfondimenti ed informazioni utili sul sito www.gps-academy.it Un invito ora a registrarvi e buona visione! Grazie a tutti!